Con la fine dello stato di emergenza e il venir meno dell'obbligo di Green Pass e Super Green Pass per svariate attività, la sensazione è sempre più quella di un liberi tutti, la pandemia è finita, non parliamo ne più. E invece no, non soltanto non è così, ma soprattutto non lo è in provincia di Sondrio. Lo si evince dal rapporto settimanale della Fondazione Gimbe. Nella settimana 6-12 aprile in Lombardia si è infatti registrata una diminuzione dei nuovi casi, pressoché generalizzata in tutte le province. Salgono Varese più 1%, Como più 2,7%, Lodi e Bergamo più 3,5%, ma il dato più significativo è appunto nell'area di Sondrio, che con i suoi 445 nuovi contagi registra un più 19,5% rispetto a una settimana fa. Il dato peggiore dopo il 26,2% di Aosta a livello italiano. Un'altra conferma arriva dall'ancor più recente report di ATS della Montagna, aggiornato le 23,59 di ieri. I nuovi casi in provincia di Sondrio sono 148, soltanto 13 i guariti e il totale dei positivi è 1.447, un numero che da settimane ormai è in costante risalita. In controtendenza con il resto d'Italia, dove i ricoveri sono in calo, anche il numero dei pazienti ricoverati in condizioni serie all'ospedale di Sondalo. Ad oggi questi sono ancora 21. Il virus non è sparito, anche se è stato deciso che il virus non c'è più. Sicuramente nelle popolazioni vaccinate da forme livissime, forme tipo raffreddamento delle alte vie respiratorie o brevi forme simili influenzali. Però chi è più fragile va tutelato, perché purtroppo il grande anziano, il virus patologico, può avere forme importanti e questa forma è contagiosissima. Il consiglio della dottoressa è uno solo e fa appello innanzitutto al buonsenso. Fa benissimo vivere, stiamo solo un po' attenti a chi è fragile, che vuol dire che se io ho il raffreddore non vado dal nonno 95enne, questo banalmente. Intanto da ieri hanno preso il via anche in provincia di Sondrio le somministrazioni della quarta dose di vaccino anti-covid. Interessati gli over 80, gli ospiti delle case di riposo e gli ultra sessantenni che soffrono di particolari patologie, a patto che siano trascorsi 120 giorni dalla terza dose. Per ora non si è certo assistito a una corsa a questo secondo booster e va detto anche che dopo un mese e mezzo dal via libera per i pazienti più fragili, le esigue coperture e le rilevanti differenze regionali documentano un vero e proprio flop, alimentato dal senso di diffidenza per un ulteriore richiamo. Come è avvenuto per le precedenti dosi, anche per la quarta, gli interessati dovranno prenotare l'appuntamento attraverso il portale regionale. Per questa settimana sono aperti i centri vaccinali di Sondrio presso il Policampus e di Morbegno al presidio ospedaliero territoriale. Dalla prossima si aggiungeranno quelli di Sondalo al sesto padiglione dell'ospedale Morelli e di Chiavenna presso l'ambulatorio vaccinale dell'ospedale. Nel Morbegnese e in Val Chiavenna effettuano le vaccinazioni anche le farmacie convenzionate, ma limitatamente agli ultraottantenni.